Mio padrone, non so come ci hanno catturato gli sbirri e non so come abbiano fatto a metterci in mezzo a dei prigionieri inferociti armati di coltello. Ci hanno inculato per bene si direbbe. Cosa possiamo fare? Mente illuminati. Ok, mi è venuta un'idea. Utilizzo da remoto la macchina del tempo e vi spedisco indietro nel tempo, così una volta che vi potrò fare tornare, questi carcerati saranno di nuovo tranquilli dietro le sbarre e voi liberi. Il problema è che da remoto non posso controllare dove spedirvi. Oh, 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 lei, Gringram e Gobetz risultate essere nati nel Far West, mentre Dani e Tore nella preistoria, gli altri invece, in un limbo. Divertitevi, chi più chi meno che fra meno di 48 ore, tornerete a Los Santos. Il vostro obiettivo naturalmente sarà sopravvivere e ammirare le ricchezze e la bellezza del passato. 3, 2, 1 e buon viaggio. 3, 2, 1 e buon viaggio. Cosa è sta cagata? Eh, devi contattare direttamente il server Crytek. Oddio, che due coglioni, dai, minchia. Che belle Red Dead. Vi invito, però è una sessione un po' vuota per Cardcore, ma siamo in 4. Quindi più 2 voi, siamo 6, 3 contro 3, gli ammazziamo tutti. Ma io finché lo metto a vostro qua non mi muovo. Dai! No, 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 me ne frega un cazzo. Se sta con soldi merda lo fa quel cazzo che vuole lei, allora... Mi inviti nella brigata. Se mi metta 5 e mezzo e... Ah, chi, la brigata... Minchia, facciare le brigate, minchia, 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 come GTA, che fa schifo. Unque stia voglia, non so di te, non so di te, non so di te. Non so di te, non so di te, non so di te. Non so di te che mi ammazzi. Laszche, che David, ca... Oh, cacchio, mi sta... Vieni, vieni qua, c'è un tizio che mi sta puntando. E con la mira manuale non son più buono, non son più un veterano. Non con la manuale, oh, 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 non con la manuale. Eh, siamo abituati a GTA, oramai, ve lo schifo lì. Vieni qua. Oh, minchia, che cazzo è successo? Maori, vaffan... Crysis, Cristo, Dio, te la fa... Crysis! Dai, come, ritrovi dopo, non c'è... Come è possibile cercare la Crysis, hai rotto i coglioni? C'è, non me lo dà neanche nei giochi che ho installato, Dio, cane. Poi, oh. Vabbè, prendo anche un cavallo, mi son rotto il cazzo di sta roba. No, ne sappiamo. Dai, gambezzi. No, adesso non mi rompete i coglioni. Se il salone fa lo stronzo, dove cazzo sei? Ha chiesto qua che il cittadino ti sta puntando la pistola addosso. No, no, nel salone lo sta qua, rompe il cazzo. Oh, ma cosa voglio, non sei qua, oh. Perché l'ho ucciso. Ah, ma quello, intendi? A me mi rompono i coglioni anche i cittadini, quindi... Dove cazzo sta? Minchia, il cecchino com'era. Dove stassi? Era, madonna. Oddio, cane, non busca. Cerca grane, sto tizio. Già due corte gamma. È affogato. Ma guarda sto cavallo. Dai, vai, vai. No, aspetta, Gri, stanno arrivando, occhio. Facciamo una impostazione... Eh, da sotto stanno arrivando. Seguimi di qua. Perché adesso, vabbè, in vetro non si vedono a meno che sparano e corrono, ma... Dovrebbero arrivare da lì, tipo. Dove è entra? Da qua? Ah, qua, qua. Arrivando da qua, Gri. Io c'è il controller che... Aspettiamo in campo aperto. Il controller che non mi ha... Eccolo, eccolo, minchia. Mi metto al riparo subito. Sta ammazzando il suo cavallo. È uno psicopatico. Dove? Ah, mi metti al riparo, minchia. Cazzo, mi sta sparando di brutto. Qua è grande, Gri. Ok, che spona qui, adesso. Oh, pazienza. Eh, pazienza. Come si fa... Ah, minchia, ci si può abbassare. Mi suggerita, madame. Eccolo là, Gri, eccolo là. Stai, Gri, eccolo là. Dai, muori. Minchia, dove l'ho preso con il Winchester? Che bel gioco. Questi erano giochi, Gri. Vabbè, qui ci divertivamo, infatti. Porca, io ci divertivamo. Cazzo, Gri, l'ho preso proprio all'ultimo. Stava dietro l'albero, tipo. Cazzo. Tra l'altro, quanto è bella sta postazione, Gri. Tipo, ti metti qua così, guarda. E inizia a mirare davanti. Guarda la postura, che figata che è. Guarda la postura, che figata che è. Madonna. Sì. È un amico. No, non è un amico. Ciao. È muovinito. Adesso, se rimani per l'interno, c'è una brutta fine. Ecco l'asino. Che stai asuto bello, tranquillo. Cazzo, si credeva. Che figata, figata. Mamma mia. Che fine di merda, ragà. Quando li fai cadere da cavallo, quando stanno perdendo mezz'ora e tutto il tempo per spararli. Eccolo là, Gri in mezzo ai campi. Sta correndo come una canzella. Eh, sì. Sta tornando dai suoi amici. Dai suoi amici. Mi seguiamo, Gri? Ma, Gri? Ma che ne so, sta litigando un live. Ma, chi cazzo? Cosa ci ammazzano? C'è una mua dietro, comunque. Come dietro? Quello di prima, eh? Eh, sì. Che cazzo vuole. Chi cazzo è uno. Dai, Gobetz, vieni. Mi muoviti. Scusa, dove viene tutta stanza? Ma sa da stai parti. Eh, potrei mettere la prima persona anche su Red Dead. Sai che figata? No, Gri non ci sta seguendo. Seguiamo quello lì. Oh sì. Boh? Ah, io vado a far giro. Un po'. Lappa. Boh, non lo so. Io seguo quello là. Eh, sta spare. Gobetz. Fa spare qua. Che ubbicchino. Gobetz. Mi ha controllato dietro, madre, sempre. Sì, quello sì. Che bello è il hardcore che non sai dove sono gli nemici, cioè. Mamma mia. Eccolo, sta arrivando, sta arrivando, arriva, 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 eccolo. Sembra di giocare tipo ad arma. Eccolo. Dove? Ah, eccolo sì, l'ho visto. Oddio. Ha cambiato person... Oddio. Ha cambiato person... Oddio, l'ho preso il mondo. Oh, la crema. Oddio, che figata di gioco. Mamma mia. No. Mamma. Questo è un gioco, Gris. Ma stavo andando tranquillo, tranquillo. Ha preso una cecchina da un fronte. Madonna santa. Quindi stavo calcando tranquillo. Suasino di merda. Mamma mia. Ma questi sono tutti i novellini, perché... Oh no, sta cadendo il buco. No, 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 no. No, 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 no. Non ci credo. No, no, ti sei suicidato. Eh, pensavo che non ci fosse una fossa così grande, cazzo. Qua ci mettono i cadaveri. Che bello sto gioco, Gris. Ok, sta arrivando a tutto gas verso di te, Gris. È il marrone. Il marrone. Sta chiamando il pony. Ah no, quel cazzo, qui è un cavallo, quello lì. Eccolo, eccolo. Aspetta, come lì non è un tizio, era un botter, ma porca Eva. Eccolo lì il tizio. Ciao. Si è nascosto dietro l'albero. Oddio, manco gli sparavo. Manco gli sparavo, io. No, che bel gioco, cazzo. Oh, cazzo, mi sta sparando, però. Aspetta, mi metto dietro l'albero. Occhio. Sai, diamiti in testa. Eccolo, Gris, sta arrivando. Sta arrivando anche Gobbets. Prendilo, Gris. Aspetta, come mi seguo. Indietro, eh. Ah no, aspetta, corso avanti. Gobbets, ce l'hai l'invito? E prendo il Winchester. Che bel gioco, cazzo. No, ancora che cado sotto, ma io non ci credo. Sono abituato a su GTA che non ti fai niente, neanche da due chilometri, qua per due metri che muori. Gobbets è meglio GTA Red Dead. No, c'è questa ripetizione, raga, mamma. Aspetta che io metto lo Springfield. Magari la terza volta non cado, magari. Magari potrebbe essere l'unica che mi invitate. Nonostante gli anni di... Considerando che non mi va neanche bene il controller, vabbè. Aspetta che ti raggiungo, che in questo caso sono un agguato sono. Che bello era la mani di Tardecor, porca Eva, che figata. Sono qua sulle palle. Sembra di giocare ad arma, veramente. Eh? Eccolo l'agri. Si sta correndo in mezzo. Si, va, è troppo lontano, piazza, per prendere il tuo cecchino. Non l'hai visto? Aspetta che mi abbasso, non si sa mai. Dici quando sei dentro, Gobbets, che ti mandiamo l'invito alla brigata? Se vi ho detto che mi dovete invitare... Ti ha mandato l'invito, cribbio. Eh, infatti ne sono arrivati otto. Sì, assieme sono arrivati. Eccolo qua, grie, eccolo, sta arrivando sul ponte. Non lo riesco a prendere. Che cazzo fa? Ti lo mando singolarmente, Gobbets, non può non arrivarti. Oh, non lo ricordi, aspetta. Aspetta, una volta che l'hai vincito, guarda. Vai, ci sono, Grie. Eh. Che be... Oh, grie, guarda, cosa ci può fare, tra l'altro, in questo gioco? Mi ricordo, mi viene in mente adesso, guarda. Aspetta. Eccolo, riparte con i problemi, a causa dei problemi con il senso di risconnesso. Ma che si faceva? Si sono messo in una modalità di sbaglia. A parlare, ma che si faceva? Come si faceva, Gobbets, a parlare? Disarmato, premi B, se non sbaglio. Ah, è vero, Grie, guarda. Senti? Ah, si, si, a parlare così. Che f***ata. Gobbets, li invito? Dammi tempo, minchia. Se te mi cagassi un attimo, ti ho appena detto che mi ha dato dei problemi di connessione, dammi tempo. Eh, vabbè. Bene, basta cagarmi un attimo, va bene. Oh, cazzo, qua, Grie. Occhio. Che fai attraverso il fonte camminando. Cazzo, è questo gioco, madonna. Ma, torna bello, poi, sto salto qua. Camminando, saltare camminando, Grie. Dai! Puttana fila che hai fatto dalla Rockstar, puttana troia, oh, peggio di G5, guarda che roba. Questo Grie continua a venirci addosso, ma non ha capito che le prende e basta. Eccolo qui. Cazzo! E poi cammino. Cazzo, guarda che fanno rami che ci sono in questo gioco. No, Dio Caio, dai, muovi quel culo, porca croia. Eh, torniamo alla dashboard, via. Facciamo un ultimo tentativo, poi spengo, eh. Io ve lo dico già. No, non ho pazzesco. Dai, gobbets. Non ho pazzesco questa sera, non me ne frega un cazzo. Se il gioco non vuole andare, non vuole andare. Guarda come curi, guarda come curi, guarda come curi quello, guarda. Cazzo, guarda. Mi ha preso il forno, il vasino di nuovo. Cazzo, Grie, si è ricercato? Ci credo, è sempre. Anche io sono ricercato, magari, buono, non lo so. Ma sì, ma fa... Ecco, lo Grie è tornato di nuovo. E spara, non mi prende neanche. Cazzo, che rabbo di merda. Ma che cazzo voglio questo? Mi fanno più sfida con i gol, diciamo. Cazzo. Allora, guarda, ammazzate. Eh, io ti rindico, non è che gli sparo, sennò puoi sparare anche a me. Oh, ho trovato l'Evans. Minchia l'Evans. Taglia mille. Ma come cazzo spara veloce, guarda. Questa arriva. Parca traia. Aspetta, andiamo da quello azzurro. Ma non è che mi sfida con la lì. Sembra che giacca per noi, cazzo. Quindi due d'altro stanno sminuzzando, Grie. Andiamo a sacchinarli da qua sopra. Ma no, lascielo. Io, io. Arie, chiedelo diè. Guardalo, guardalo. Dov'è, dov'è? Eh, ancora. Non ci credo. Aspetta, Grie, controlliamo da qua sopra. Ecco, forse l'ho visto. Perché da qua sopra li riusciamo a vedere. Ma quello l'è è un bot, mi sa. Dimmi se li vedi, perché dovrebbero essere lì, eh. Io vedo l'ho per cazzo da ammazzare questo, però, eh. Dai! E si può per pesci. È possibile connettersi. Verifica la connessione e riprova. Ah, cerchiamo un'altra sessione adesso, Gobbets. Non ci credo che ci sia un'altra sessione. Eh, sai, è che ci sarà sì che queste sono proprio robe epiche. Eh, beh, sì, sì. Eccolo, Grie, eccolo! È un indiano! Prendilo, Grie. Dai, invece se spulchi. No, cazzo, ho finito i colpi. Vabbè. No, ti prendo solo te. No, dai, dai, dai. Voglio vedere... Adesso facciamo un'altra sessione, Gobbets, tranquillo. E non do suono. Guarda, guarda, si è nascosto, Struccia. Guarda, è il viola, si è nascosto. Cazzo vuole nascondersi dopo questo. Dai, dai. Abbiamo quattro risate, via. Tanto non c'è più... Si, no, si fa giocare a nascondino, Grie. Guarda, c'è un cervo. Qua ci sono anche gli animali, tra parentesi. È stato sette volte. Dove è stato strunzo? Ah, sta scappando in là, mi sa. Non c'è più il cecchino che ho finito i colpi, madonna. Ah, adesso sono le munizioni. Aspetta, ci sono le munizioni, là. Vieni, altro che H1-0-1, vieni. Porca puttana. Porno proprio, altro che... Guarda, ma, devi te run, tra l'altro, madonna. Sapevamo tutto di sto gioco. Perché l'amo? Eccolo. Eh, se ne sta scappando, Grie. Ha capito che non finisce ad ammazzarci. No, non... Oh, cazzo, c'è... Quello là è un amico oppure no? Perché non si capisce. Mi sa che stanno venendo da noi. Non capisco, adesso ti invitiamo un attimo. Siamo andati in un conflitto aperto. Siamo andati in un conflitto aperto. Cazzo, light power. Aspetta, Grie, c'è chiama... C'è chiama lì della collina. Adesso c'è due uomini, 5 colpi. Non devo sprecarli, però. Eh, cazzo, è Resident Evil, eh, madonna. Desperados, minchi. Ah, cazzo, c'è l'albero proprio davanti. Che sfiga. Guardalo, 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 questo. Guardalo, in continua, dove sei? Adesso, cerco di prendere quegli stronzi, dai. Aspetta, ma lui è un cavallo, eh? No. Ha squarciato. Ma come ha squarciato? Io voglio, perci, ma fermo. Perché me la voglio far ammazzarci da questo. Perché... Almeno dai fondamenti punti esperienze, perché c'è la taglia. E dove cazzo si mette? Io dobbiamo prendere quell'indiano là, Grie, perché non si può andare avanti così. Non me lo vediamo. Dobbiamo prendere l'indiano. Eccolo là, l'indiano. Eh, ma che stanno a venire a cercarlo, eh? Capì? Oh, mio Dio! Shotbitch! Io dove l'ho preso! Ho visto la fumata, cazzo! Porca Eva! Con l'ultimo colpo, tra l'altro. Non ci credo a questo gioco. Porca Eva! Fratello, ho visto la fumata del fuggito e ho visto il cadavere. Cazzo, mi ricordo quanto sarà lontano da qui e là in fondo. Eh, è un bordello. Guarda dove sono questi ospugli, là dove c'è il cerchio, vedi? C'è anche il cadavere, mi sa. È un bordello. C'era anche il suo amico che si è salvato soltanto perché avevo finito i colpi, se no prendeva anche lui. Eccolo l'agri, quello viola. E spara col leva. E spara a ripetizione. Scappa con l'asino. Se ne sta a scappar, Agri. Oddio! Cazzo! Come hai fatto a prenderlo, che era già dietro la roccia? Eh, col fucile Springfield. Porca traia! Mi sembra di cambufalo, eh! Ok, adesso per cambiare sessione lanciamoci giù da qua, almeno possiamo cambiare in tranquillità il mio trailer. Almeno ci ammazziamo da soli, almeno non riusciamo magari a morire. Cazzo! Morto! Cerchiamo un'altra sessione. Eh, non riuscivano ad ammazzare, signori, questi. Sì, ci siamo dovuti ammazzare noi. E li ho visto la fumata, cazzo. Non sentite il colpo! Ho visto il cadavere, ho visto il fumo uscito dalla canna, proprio. Cazzo, che gioco! Ma perché non rifanno un gioco del genere, quelli da Rockstar, cazzo? Siamo in sei, perfetto. Gobbets, dai, vieni. Remastered, oppure... Remastered è quella missione della Gideon, comunque sia. Red Dead 2, minchia, hanno vinto tutto, proprio. Delle testa, le cazzo. Hanno un capolavoro come questo. Quanto riguarda rispetto a GTA, Gris? Ma era più originale! Non vedi la gente sulla mappa. Ma è più originale, ti divertite più... Ah, vuoi ci dovessi vedere nel 2010, questo, va. Cazzo. Forse 5 anni. Gris, non vedi nemici sulla minimappa, grazie a Monotard Core? La mira non è assistita. Cioè, ma voglio ammettere, madonna. Che poi, vabbè, su GTA fa miliardi di cose in più, tecnicamente. Sti cazzi, grazie, è uscito l'anno scorso, madonna. Ma si è preso o non si è preso? Errore di re, preso, ma sono rimasto a un piedi, sono più grosso del bufalo, io. Porca è che sei rimasto... Perché ho visto che ti ha travolto, io. Cazzo, lo stai prendicando, lo stai calmo. Oh, cazzo, sta arrivando. L'acqua tra i inculi fu... Oddio, il vero è il Tomahawk. Gobe, se cerca la Taylor, non so cosa dirti. Eh, io sono giù dentro una partita. Hardcore? Cazzo, proprio. Non accettare. Come, dai, come si legge? Cioè, il pistolero davanti all'ufficio che sta tornando dentro adesso. Non ci credo. Non ci credo. Cazzo. Eh, c'è un motivo che se ci passevamo tutte quelle ore, madonna. Eh, cazzo. Eh, grigli. Che cazzo indichi? A me mi serve un cavallo, vi rivado un attimo direttamente nel ranch a prenderne uno appena... Eh, perché non arriva il cavallo, scusate? Oh, non arriva il cavallo. Vado direttamente dove gli allevano i cavalli a prenderlo. Vi ringrazio per la considerazione. Eh, che ne so perché non arriva il cavallo. Perché sta dentro, si vede. Cazzo ne so. È dentro l'area dei uscite. No, ma qua c'erano i cavalli prima, perché non ci sono più. Ma è sempre entrato. Eccolo qua, Gab. Eccolo qua, Gab. Eccolo qua, Gab. Mi chiami un cavallo anche per me, Gab. Mi fanno schifo. Cioè, mi fa schifo la mucca. Ma non arriva neanche per me. Cazzo, Gab si stelle trasporta pure su The Red Dead, madonna. Minchia, ma io non ti vedo, fratello. Io non ti vedo, vedo... Ma non ti vedo. Gab, ti trasporti pure qua, madonna. Ma dov'è che è? Eccolo qua, Gab. Ma se ti sparo, li prendi i colpi? Io a te non ti vedo proprio. A chi? A me o un po', Gobbets? Sì, che mi arriva i colpi, dio cane. Vedo il pallino lì. Vedo il pallino, ma te non te vedo, cazzo. Non te vedo. E' dio cane, sto joystick, porca trolla. E non vedo neanche Gobbets. Non vedo nessuno, io. Dai, cerca un'altra, cercare un'altra, Gobbets, dai, su. Cioè, dove c'è Gobbets, c'è il lag e i bug, praticamente. Dai, Gobbets, Red Dead non può laggarti, madonna. Infatti, è la Microsoft che rompe i coglioni in sto periodo. Più sulla One o sulla 360 rompe? Ah, su tutte e due. Fanno le cose in grande, fanno. Sì, sì, loro fanno tutto o non la fanno? Lo vedi? Boh? Come è Boh? Ma dov'è che è? Io ti sto continuando a sparare, non prendi gamba. Ah, sì, sì, lo vedo, lo vedo. Ah, Boh? Ma non ci credo. Ma è vero, io ti vedo. Parla, Gobbets. Fammi un attimo tempo, mica, fammi vedere se funziona sto gioco. Che cazzo fa il cadavre di Gobbets? Sembrava satanato. Considerando che da me vi sto buttando giù col toro. Eh? Andà lui. Veramente. Andà lui. Che cazzo fa, Gobbets? Oh, ma dov'è che è? Andiamo a vedere dov'è Gobbets? Ma si deve trasporto, vedi? Sta dietro, si deve trasporto. Ma cazzo, ma... Gobbets, cazzo di connessione hai? Figa. La connessione a me di italiano? Scusa se la mia è una delle peggiori province che c'è in Italia. Vabbè, però la tua chat funziona almeno. Cazzo, potete usare le armi anche della cavalcatura. Che figata. Ti sto beccando, Gobbets? Sì, sì. Cazzo, che buono, cazzo. Ma sta laggando troppo. Rimango neanche in partita. Io ti sto colpito, almeno. Da funore, sei morto. Rotti i coglioni. Dai, che quale, crazy. Porco Dio. Cazzo, che è un messicano. Quello che abbiamo ucciso prima è che è un messicano. Credo che si sta a studiare la mappa della California. Devi scappare. Ho fatto partecipare su uno di quei primi che abbiamo incontrato. Quindi vediamo un po' dove ci porta. Ciao, ciao. 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 Grazie per la visione!